Inizia oggi la campagna per la vaccinazione anti-influenzale all'Istituto Gaslini ed inizia qui in direzione insieme ai capi dipartimento e agli amministratori dell'Istituto per dare un messaggio. Vaccinarsi è una cosa giusta, è una misura di sanità pubblica ed è un ottimo modo per evitare complicazioni assolutamente evitabili. Un invito quindi e un consiglio. Vaccinatevi. Grazie a tutti.